Ciao, benvenuti a tutti a questa serie di 12 puntate o meglio di 12 tavole quadrate sul mondo del lavoro. Perché tavole quadrate? Perché sono delle tavole rotonde in cui vogliamo fare quadrare i conti del mondo del lavoro. Io sono Rudy Bandiera e insieme a Randstad percorreremo appunto questo percorso di 12 puntate in cui cercheremo di analizzare il mondo del lavoro da due punti di vista. Dal punto di vista del candidato, colui che vuole cambiare lavoro o cerca un nuovo lavoro, e dell'azienda, cioè in qualche modo chi andrà ad assumere o a ingaggiare questo candidato. Lo facciamo in questa prima puntata con due ospiti, Nicoletta e Claudio. Ciao Rudy. Ciao ragazzi, grazie mille. In questo percorso cercheremo di fare una cosa semplice ma non troppo, ovvero analizzare il presente, cercare di capire cosa sta accadendo, per in qualche modo vedere il futuro, cercare di capire che cosa accadrà domani. E cominciamo dalle soft skills. Questa entità quasi evanescente, immateriale, di cui tutti parlano, ma non so se sia chiaro che cosa sono. Allora Rudy, le soft skills, ovvero competenze trasversali, sono tutte quelle dimensioni della persona che si porta a bordo in un contesto, in una relazione o in un'altra situazione. Le soft skills, a differenza delle hard skills che, proprio a causa dei cambiamenti veloci del mercato del lavoro, a volte sono soggette anche a obsolescenza, le soft skills fanno parte del nostro bagaglio di attitudini, di capacità, di abilità che noi abbiamo acquisito in diversi contesti e che in qualche modo portiamo a bordo in una nuova, come citavo prima, relazione in una situazione. Le soft skills sono veramente tantissime. parliamo di problem solving, parliamo di resilienza, parliamo di responsabilità e quindi della capacità di saper anche lavorare e collaborare con team interfunzionali. Parliamo di apertura mentale. Cos'è l'apertura mentale? La nostra capacità di essere curiosi, di essere in qualche modo di approfondire al di là del nostro sempre orticello. Il nostro recinto. E quindi la base, la base della nostra impiegabilità, senza la base, scordiamoci le altezze, no? Quindi le soft skills, noi siamo persone, noi siamo un arcobaleno di colori, ok? E ognuno di noi è unico. Ecco, questa nostra unicità la portiamo sempre in una nuova dimensione, in una nuova realtà, in un nuovo lavoro, in una nuova attività. È bellissimo. È bellissimo, è metafisico, ma bellissimo. Ma bellissimo, perché comunque sono appunto competenze, ma trasversali, che possiamo portarci sul lavoro, fuori dal lavoro, eccetera. Però Claudio, sembra che queste soft skills abbiano in qualche modo soppiantato le hard skills. Quindi in qualche modo le conoscenze tecniche, che non ne ha voglia più nessuno, ma è così? Intanto grazie della domanda, perché mi rimetti in trasmissione, se l'ora hai fatto un po' di difficoltà. Allora, secondo me le soft skills sono quelle caratteristiche personali, come abbiamo appena detto, che ti consentono di sopravvivere, di crescere in un nuovo contesto. Però attenzione, perché giusto per darti un numero, nel mondo mediamente, circa un miliardo di persone cambia lavoro ogni anno. E per le aziende, certificare le competenze tecniche, quindi le hard skills, è un lavoro difficilissimo. Non esistono dei processi certificati che garantiscono che le persone hanno quel tipo di competenza. Pensa che addirittura si sta ipotizzando l'utilizzo della blockchain per certificare le hard skills. Questo solo per dire che a questo pezzo fantastico delle soft, non dobbiamo dimenticare in azienda che le competenze tecniche sono quelle che ci consentono di esprimere la nostra professionalità. Lasciami aggiungere una piccola riflessione. Darwin ci ha insegnato che gli esseri viventi, le specie, si evolvono al mutare dell'ambiente in cui vivono e non viceversa. Quindi facciamo molta attenzione a inserire persone che abbiano questo tipo di soft skills all'interno di ambienti lavorativi troppo rigidi, troppo bloccati, non flessibili, perché sarebbero loro i lavoratori che perdiamo. Quindi è molto importante lavorare sulla cultura aziendale e poi introdurre persone che hanno queste soft skills. Se non rischiamo di perdere i buoni, perché la struttura è troppo rigida. Quindi diciamo che la struttura non cambia in base alle persone, ma le persone cambiano in base alla struttura. Ok, questa qua è una cosa da tenere presente perché la cultura aziendale è fondamentale. E tra l'altro è un tema che uscirà diverse volte in queste puntate, così come tutti i temi che affronteremo nelle prossime puntate in qualche modo sono figli di quello che ci siamo detti oggi, perché tutto nasce da soft e da skill. A proposito, se voi doveste fare un tweet di quello che avete detto oggi, ovvero un micro riassunto, cosa direste? Quello che sono è sufficiente, se solo riesco ad esserlo. Grandissima, molto bella, molto bella. Grazie, me la segno. Grazie mille. È dura, eh? Non voglio giocare. È dura, è dura di giocare. No, ti direi il futuro è adesso. Ecco, senza dubbio. Senza dubbio adesso e l'abbiamo detto all'inizio. Il futuro adesso significa molto semplicemente che tutto quello che faremo domani inizia da quello che faremo oggi. Quindi queste puntate serviranno a capire il futuro del mondo del lavoro, il futuro delle professioni, il futuro di tutti noi. Grazie ragazzi per essere stati con noi. Grazie a te. E grazie a voi per essere stati con noi. Ci vediamo alle prossime puntate. A presto, ciao. Grazie. Grazie a tutti.